Outing e ricordi, segnalazioni costruttive per migliorare la propria espressività. Vi ricordiamo che casa nostra è leggereavocealta.it, dove potete trovare tutti i nostri riferimenti e da oggi anche una sorpresa, ma ve la diciamo dopo. Mettiamoci la voce, il podcast dove parliamo di lettura ad alta voce per te stesso, la tua famiglia e il tuo lavoro. Ciao a tutti e benvenuti a Mettiamoci la voce. Ciao da Maria Grazia. Ciao da Francesco. E ciao da Sandro. Ma la smettete di cambiare ordine? Che cavolo, io sono uno abitudinario. No, no. Maria Grazia, Francesco e Sandro, poi io non capisco. L'importante è che capiscano i nostri ascoltatori. E che dovrebbero dircelo. Sì, e infatti ci dicono perché ci danno tantissimi riscontri, ci scrivono e vi ringraziamo tantissimo e vi invitiamo sempre più a contattarci e a dire la vostra, poi voi... E intervengo io, anzi perché se ci vogliono vedere oltre che contattare... Dici? Se vogliono. Potrebbero volerlo, a loro rischio e pericolo. Il primo di marzo del 2018, venerdì, primo marzo... 2019. 2019, cavolo, hai ragione. Scusate. Venerdì, primo marzo 2019, mi raccomando, non 18, 19. Perché siamo nel 2019. Faremo una registrazione live del podcast a Genova, alla Biblioteca Internazionale per Ragazzi, De Amicis. Sì, dove presenteremo il libro... Ma è una scusa. Presentare il libro è una scusa per fare un podcast in diretta, che ormai ci piace tantissimo. Con tanti ospiti. Con tanti ospiti. Quindi se passate da Genova venerdì primo marzo 2019, veniteci a trovare perché... Alle 17. Alle ore 17, la Biblioteca Internazionale De Amicis, ci fa molto piacere vedervi. Potrebbe essere un'occasione per incontrarci dal vivo. Sono vari ospiti, tra cui Francesco Langella, che oltre a essere il presidente di AIB Liguria dell'Associazione Italiana Biblioteche per la sezione Liguria, è anche uno straordinario lettore a voce alta per bambini con... Ed è anche il padrone di casa. È anche il padrone di casa, il direttore della Biblioteca Internazionale. Ma non lo ospitiamo perché è il padrone di casa, lo ospitiamo perché è bravo. È molto bravo, sì. Un'altra nota di... Biasimo. No, niente di Biasimo, le note ero abituato, ma non sono quel tipo di note. Vogliamo segnalarvi che se ci seguite su Telegram e quindi siete abituati alle nostre note settimanali, o meglio le loro perché io me le scordo quasi sempre, da pochi giorni è pubblicato e attivo l'archivio delle note Telegram, che poi sostanzialmente è un nuovo podcast che si chiama Leggere a voce alta su Telegram. Quindi cercatelo su tutte le principali piattaforme e ci trovate giorno per giorno. stiamo ricaricando le note Telegram a partire da agosto 2018, questa volta è 2018, e così ogni giorno avete una sveglia, un buongiorno da dare a voi con le note Telegram che ormai vi siete dimenticati. che sono brevi, sono brevi, sono cinque minuti, quelle di Maria Grazia sono dodici, le mie sono di due, tre minuti. No, vabbè, non scherziamo. Però ci fa piacere se andate ad ascoltarle, ci mettete una valutazione a 5 stelle se vi piacciono e ci date un vostro feedback su Telegram o via mail o dove volete. Nei modi per contattarvi li conoscete. Sì, sì, come sempre potete anche ispirarci perché molti contenuti sono stati generati da vostre osservazioni a cui noi piace rispondere. A proposito di questo, partiamo con l'argomento di oggi. L'argomento di oggi parte da un outing e devo dire mea culpa, devo fare un mea culpa. Da un bacchettamento sulle tue ditine. Sì, giustamente, che me lo merito tutto perché ci scrive Giacomo da Firenze facendoci tantissimi complimenti per mettere una cosa e ci ha fatto sicuramente molto piacere. Stai ascoltando Brain Forum Podcast, una protezione a vocealta.it per Brain Circol Italia. Una particolare aspetto che ogni tanto scappa e dei tre è quello che scappa a me sicuramente, quindi lo ammetto. Allora, caro Francesco, mi sto scrivendo da solo, caro Francesco, non dire più piuttosto che mai più, se non appunto adesso vediamo i casi quasi pratici. No, è sicuramente un errore di cui chiedo scusa perché questa cosa a Giacomo dà particolarmente fastidio e quindi mi auguro che i podcast che sta ascoltando dall'inizio, cioè quindi mi auguro che da questo in poi non... Quante volte lo avrei detto? Ma non lo so perché abbiamo pensato di, oltre di fare l'outing da parte mia chiedendo scusa a Giacomo, anche perché ci ha dato lo spunto per fare una riflessione sulla lettura a voce alta, sembra strano, ma in realtà ci sono delle analogie. Ogni volta che ci trovano dei difetti nel momento in cui vengono evidenziati in maniera costruttiva, questi sono preziosissimi per noi e anche il lettore a voce alta, in questo caso il lettore a voce alta che ad esempio ha un difetto di dizione, nel momento... Stavi per dire piuttosto che uno di... No, 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 un difetto di dizione è punto, lo aiuta la quotidianità perché può trasferire diciamo il suo corretto modo di pronunciare bene nella quotidianità e poi lo ritroverà nella lettura a voce alta. Sì, diciamo che forse ne abbiamo anche già parlato in questa sede, l'unico modo sensato è di cominciare ad applicare nella quotidianità perché se noi riportiamo la corretta pronuncia solo sul momento topico della lettura diventa qualcosa di falso, di costruito e invece di faticoso e magari di non efficace perché siamo presi dalla lettura, il nostro cervello è assolutamente tutto preso dal momento che rifà gli stessi errori. Sì, certo, perché appunto perché non l'abbiamo introiettato comunque questo e quindi... Ma sempre a parlare di errori siamo, errori e sbagliati... Sì, è vero, è vero, però sono occasioni veramente di crescita. Io ricordo tantissimi anni fa quando ho cominciato, un giovanissimo allievo di teatro e avevo i miei buoni difetti di lezione su cui ho lavorato e devo dire che dovrò ancora lavorarci perché non si finisce mai. Raccontaceli! Ora li vogliono sapere tutti, quindi raccontaceli. Uno è piuttosto buffo perché io avevo questa O molto particolare perché dicevo cosa, rosa... Come i baresi? Ecco, infatti tutti mi dicevano sei un baresi e invece no, sono un valdostano perché sono della Savoia. E sei un savoiardo! Avanti Savoia! La O è chiusa, cioè proprio sono un savoiardo, infatti finisco... Giustamente il mio destino sarà finito in una cosa positiva. La cosa positiva è che il tiramisù è senza O. Senza O. È vero. E quindi poi con il tempo non ho più detto cosa, ma cosa, rosa, e poi ce n'era un altro che ricordo proprio, l'hai aperta nei pronomi, a me piace, no a me piace, cosa ne dici te? No, cosa ne dici te? Cioè, e questa cosa qua, ricordo... Come dici te già è sbagliato. È sbagliato in italiano. È sbagliata la grammatica. Sì, va bene. No, 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 posso dire Giacomo, adesso giustamente Giacomo... Giacomo ti denuncia. Mi denuncia. Ha ragione. Sappi Giacomo che io non dissocio. Ha ragione. Questa non era preparata. Comunque io, questo è il difetto che mi auguro di non, mai dico sempre a me, mi suonerebbe strano dire a me, l'ho, sono riuscita a superarlo con un po' di tempo, usandolo nella quotidianità, io facevo di tutto per pronunciare quella parola, proprio indotta, finché il mio cervello ha detto, vabbè, ho capito, dirò a me piace, e così sono cresciuto. E comunque in effetti quelli che chiamiamo difetti, no, e che comunque invece sono errori di edizione, sono strettamente legati alla nostra provenienza. Eh, c'è poco da fare, perché poi ci suona strano magari dire tempo, perché noi ad esempio a Genova diciamo tempo, stritto, ma dico quello per dire treno, per dire tante altre parole. Ma addirittura diciamo Genova, quando invece bisognerebbe dire Genova. Oppure sono gli altri che dovrebbero dire Genova. Io sarei più per la seconda, eh. Anche perché se viene da Iannua, no, da Lai, lì parte la diatriba sull'origine del nome Genova. Possiamo scrivere alla Crusca, no? La Crusca sulla dizione forse non è... è vero comunque che, a proposito anche della grammatica e della lingua, è vero, anche in questo periodo si parla tanto di questo discorso che la lingua evolve, che c'è da dire, però ci sono delle basi che riguardano appunto la sintassi e la grammatica che io non andrei troppo a toccare. È vero che noi ora usiamo espressioni che sono accettate, che magari cent'anni fa non lo erano, però fin tanto che... parlo appunto dal punto di vista proprio della grammatica, fin tanto che comunque l'uso non sancisce l'ufficialità, allora direi che insomma il riferimento è quello della regola che conosciamo. E vi faccio una domanda. Vi mancavano le mie domande? Sì, devo dire di sì. Nel caso in cui, da lettore, quindi torniamo proprio alla lettura nuda e cruda, da lettore a voce alta, io mi trovo a confrontarmi con un testo che riporta qualche tipo di stortura a livello di quella che è la mia invece abitudine quotidiana, cioè quindi qualcosa che mi suona strano da leggere. Come funziona? Beh, a volte... E dipende se è strano, scusami, ti ho interrotto, se è strano o se è sbagliato quello di leggere. Esatto, perché l'autore potrebbe anche ricorrere ad un italiano sporco, volutamente sporco, non so, non mettere i congiuntivi dove dovrebbero andare i congiuntivi, dire piuttosto che invece che oppure. Quindi la tua è una licenza poetica. Lì bisogna conoscere prima di tutto il testo per non incorrere in questo che tu stai dicendo, ma noi sappiamo che ci sono diversi tipi di letture e, per esempio, se andiamo a leggere Manzoni sarà difficile che ci sia un errore di questo tipo, ma magari se invece siamo chiamati a leggere una relazione oppure un qualsiasi altro tipo di lettura informativa scritta da qualcun altro e evidenziamo un congiuntivo sbagliato, secondo me siamo più che legittimati a correggerlo. Poi qualcosa di questo genere potrebbe accadere anche per le traduzioni, in conseguenza di alcune traduzioni di letteratura che magari a volte capitano di trovare. Tra parentesi, faccio lo spoiler, ormai so che si dice così, uno degli argomenti prossimi sarà proprio legato al mondo delle traduzioni, della lettura in originale, ci stiamo già studiando. La qualcosa si porta dietro anche che spesso su internet troviamo dei testi che sono chissà passati attraverso quali mani, noi magari ci fidiamo e poi scopriamo che appunto non sono proprio il top della traduzione. Oppure anche se sono testi di letteratura italiana a volte c'è qualcosa che è un po' più, secondo me, del refuso, è qualcosa che deriva dai vari passati. Lì ritorna l'importanza della lettura zero sul testo esatto che andremo a leggere. Questo mi ricordo che è stato già detto in alcuni episodi sull'importanza dell'avere lo stesso identico testo, proprio fisicamente, tra la lettura zero e la lettura poi in pubblico. Di non provare sul proprio testo che si ha a casa, magari per poi lavorare su quello fornito dall'autore o dall'organizzatore nel momento in cui si va a fare la lettura in pubblico, perché magari potrebbero essere edizioni diverse anche con traduzioni diverse, nel caso di un testo straniero. Sì, questo è molto simile al caso di quando si deve leggere con una musica di sottofondo, cioè tu leggi sopra una musica e magari uno dice, a casa l'ho provato col mio cd di un brano, che ne so, di Mozart. Sì, specie sulla musica classica. Sì, sì, e quindi funziona, perfetto, dico all'organizzatore di procurarmi, magari anche su internet, basta che me lo tiri giù, e poi la versione magari è completamente diversa e allora non mi trovo più nell'armonia che dovrebbe esserci tra la fusione del suono e della parola e del suono. Questo vale la pena forse spendere mezza parola per dire che leggere sulla musica significa che in preparazione della lettura, che faremo su un sottofondo, su quel sottofondo c'è un'attenzione particolare a uniformare, a armonizzare, per così dire, la nostra lettura con i tempi e tutto il resto della musica. Di fatto il lettore, anche nel nostro manuale, metterci la voce, l'abbiamo definito come un suonatore di letteratura tra le varie cose e quindi si prefigura proprio come un concerto per lettore e orchestra. E in più torno invece sul discorso proprio testuale, che magari la differenza tra il testo che abbiamo a casa e il testo che andiamo a leggere potrebbe essere veramente minima, ma quel poco che ci fa andare fuori fase sulla lettura, magari la virgola spostata piuttosto che il pronome cambiato o il… Certo, se sono traduzioni questo può essere molto verosimile come cosa, ecco, può accadere. E ora quindi che Francesca ha fatto il suo outing… Vuoi anche il mio outing? No, 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 tu non puoi aver mai sbagliato nulla. È immacolata. No, scusate, mi prendono in giro. Vorrei fondare un Maria Grazia Fan Club. E quindi chiamiamo Filippo Carrozzo a sostegno in questo caso, lo evochiamo. Quindi Filippo, se stai ascoltando questo episodio del podcast, materializzati nel nostro canale Telegram e supporta Maria Grazia. Grazie, sì. Sappiamo che è un tuo fan accanito. Ma viceversa anche. No, dopo gli outing di Francesco mi viene da pensare quanti attori possono essere partiti da situazioni, ne parlavamo forse proprio con Filippo, svantaggiate dal punto di vista della costruzione del suono perché abituati a suoni e a dialetti molto diversi da quello che poi è l'italiano corrente. Perché sa da studiare e c'è poco da dire. Cioè, quando anche si parla del lavoro dell'attore si pensa che sia, basta avere un po' di faccia marcia, come si suol dire. No, non è esattamente questo. Poi, soprattutto se ci si, lasciatemi dire, specializza nell'uso della voce. Cioè, nessuno nasce imparato, no? Beh, però qualcuno nasce più avvantaggiato. Sì, sicuramente sì. Una predisposizione. Ma non solo una predisposizione, a seconda dell'area geografica dove nasci, hai bisogno di lavorare più o meno anche, probabilmente. Sì, io direi anche che comunque se noi pensiamo, per esempio, alla Toscana come area d'appartenenza, io distinguerei, perché c'è il, non me ne vogliano gli amici toscani, ma c'è il dialetto toscano, e c'è invece il toscano nel senso della persona che parla un italiano corretto. E allora lì, anche lì, può essere che l'influenza di chi ti ha insegnato a parlare, ma non necessariamente parenti, ma anche, non so, maestri, figure di riferimento, poi ti hanno anche indotto l'errore. E secondo me un po' tutti abbiamo bisogno di ripulirci, perché è difficile, io credo, è difficile che si parli un italiano pulito, da un punto di vista proprio dell'addizione dell'ortoepia. Credo che il lavoro va fatto. Va fatto, e l'abbiamo anche già detto in questa sede, ovviamente se si pretende di utilizzare la voce per lavoro, ecco. E soprattutto per essere equilistanti da tutti, probabilmente, per rispetto e per essere comprensibili da tutti. Certo, certo, perché è chiaro che anche in altra sede dicevamo quando leggiamo un libro specialmente di un autore straniero, e se noi gli diamo una cadenza dialettale quale che sia, e lo posizioniamo e non è corretto. Poi è vero che possiamo fare tutto il contrario di tutto se c'è un pensiero dietro, però deve esserci il pensiero dietro. Vi porto su un altro discorso che abbiamo fatto anche qua in altre occasioni, quello cinematografico, cioè il fatto di caratterizzare una voce con un dialetto piuttosto che un altro, dialetto, piuttosto che un altro, è una scelta più registica a quel punto. Cioè io cerco di ricreare una condizione simile a quella logica, proprio a quella dell'originale, trasportando nella realtà del paese dove viene messo in scena il personaggio. Quindi se parla con un accento di un certo tipo che nella sua cultura si porta dietro una serie di caratteristiche, è un dialetto particolarmente connotato come povero, piuttosto che come di chi lavora la terra, piuttosto che non lo so, di chi fa qualche altro tipo di attività. Se lo vuoi riportare nella tua cultura, probabilmente come scelta registica puoi connotarlo con un dialetto che abbia caratteristiche analoghe nella tua realtà. Però è una scelta registica da fare a monte. Eh beh sì, ma se pensi c'è stata una polemica recentemente su una fiction, non sto a dire quale, perché i protagonisti di quella fiction parlavano tutti con una cadenza che non corrispondeva alla, come dire, alla localizzazione geografica della storia e questo naturalmente i locali lo hanno notato, gli altri no naturalmente. Penso di aver capito quali... Ho girato in modo abbastanza elegante. Diciamolo, diciamolo. No, non diciamolo perché siamo signori, però è chiaro che sia così evidente per chi è di una determinata città. Del resto mi ricordo vari anni fa un tuo escamotage per degli attori non professionisti che avevano una certa cadenza genovese, in questo caso, avevi ambientato la storia non in un posto qualsiasi, ma proprio nell'introterra genovese, quindi ci poteva stare, diciamo. Hai fatto di necessità via tu. Sì. C'è anche un altro termine che però non userò in questo caso. No, a volte lo puoi fare, chiaro che se stai facendo Shakespeare magari... Eh no, esatto. Oddio, sì, lo puoi fare. O sai Kenneth Branagh e allora puoi fare quello che vuoi. Però appunto è il discorso quando si dice se c'è un pensiero dietro. Il pensiero però deve essere non gratuito, deve essere che tu mi sai comunque motivare perché hai portato Shakespeare a Busalla, provincia di Genova. No, però potendolo invece fare, in quel caso che ho capito qual è, si poteva perché la storia poteva essere tranquillamente ambientata. Poi è chiaro che appunto, parliamo anche di livelli diversi, no? Chi, dicevamo prima, chi usa la voce in senso professionale è un po' come se avesse il dovere di pulirla anche da questo punto di vista, no? Perché è una forma di rispetto per chi ci ascolta. Certo. Io prima di concludere vorrei fare una segnalazione perché abbiamo ricevuto e letto molto volentieri un libro che consigliamo vivamente e si tratta di manuale di lettura espressiva, tecniche, esercizi, accorgimenti per leggere e comunicare con efficacia di Francesco Schipani con le edizioni La Rondine. Mi raccomando, anche se il titolo è simile e c'è un Francesco di mezzo, non è il nostro manuale. Stiamo parlando di un manuale. Però ci fa piacere. Ci fa molto piacere, ci fa molto piacere perché è un libro ben scritto e quindi ci piace proprio condividere e far conoscere questo libro. E lo salutiamo perché è stato un piacere conoscerlo. Sì, molto, molto, veramente una cara persona. Questo libro come contenuti è impostato molto come un manuale, infatti ci sono tantissimi esercizi proprio pratici, seguiti proprio passo passo e quindi, ripeto, manuale di lettura espressiva, tecniche, esercizi, accorgimenti per leggere e comunicare con efficacia di Francesco Schipani per le edizioni La Rondine nel 2017, quindi mi sembra. Quindi salutiamo, anzi a proposito facciamo un appello, se tra l'altro chi ci sta ascoltando ci sono altri professionisti della voce nei vari aspetti, quindi analoghi, omologhi a noi oppure in altri ambiti, parliamo noi siamo qua per confrontarci e ci fa piacere conoscere persone nuove e soprattutto creare sensibilità maggiore rispetto alla tematica della lettura espressiva. Sì, più siamo meglio. Più siamo meglio, certo, certo, non è un discorso di rivalità, è un discorso di confronto. Anzi, io ho imparato tanto dal libro di Francesco Schipani, è proprio stato nutriente, io uso sempre questo termine. Bene, anche noi ci siamo nutriti. E allora a presto e grazie. Alla prossima, ciao. Alla prossima, presto.